La Corea del Nord ha notificato che Rizong Won, il presidente del Comitato per la Riunificazione Pacifica della Corea, sarà capo della delegazione che incontra Ermartide quella del sud al villaggio di confine di Pamungjom, confermando l'importanza data al vertice. Lo riporta l'agenzia Yonhap, sarà il vertice di più alto livello da oltre due anni dato che la parte sudcoreana sarà guidata dal ministro dell'unificazione Chomai Angon.